Dobbiamo sostenere questi valori non solo all'esterno ma anche all'interno, ogni volta che sono minacciati, compromessi o messi in discussione. Valori che non vanno mai dati per scontati, sono ancora fragili, vanno riconquistati giorno per giorno. La coerenza di David sui diritti e le libertà è una delle lezioni più preziose che ci ha lasciato. L'Unione non può essere solo una casa comune tenuta insieme meramente da parametri economici o un'istituzione alla carte, un menù in cui puoi scegliere quello che ti conviene e lasciare da parte le responsabilità. Abbiamo ricordato l'amitezza di David ma su questi aspetti era davvero inflessibile, duro se necessario. La Presidente del Parlamento europeo ha sempre contrastato senza sconti le derive e i cedimenti di alcuni Paesi membri sul fronte dei diritti e dello Stato di diritto. Credeva in un'Europa sempre più inclusiva e solidale, che è nata per la tutela e il rispetto delle minoranze, in cui non ci sono discriminazioni culturali, sociali o di genere. Un'Europa che da sempre è una democrazia, ma deve sempre più essere una democrazia dei cittadini e delle cittadine, perché senza la partecipazione dei cittadini questa democrazia è incompleta. Il Parlamento è il più sensibile a tanti dei temi che abbiamo discusso oggi, è vero, ma quante volte, lo dico alle colleghe e ai colleghi del gruppo, quante volte i nostri sforzi negoziali pagano e scontano gli equilibri intergovernativi in un Consiglio dove ognuno guarda il pezzetto suo, dove si siedono in quel tavolo rotondo, non rivolti gli uni verso gli altri, ma rivolti all'indietro, a guardare ossessivamente ed esclusivamente il proprio interesse nazionale, il proprio dibattito nazionale. Così non ci salveremo, perché ci salveremo soltanto insieme se riprendiamo quell'afflato. Da buon giornalista era consapevole dell'importanza dell'informazione per la qualità del tessuto democratico in tutta Europa ed ha sempre contrastato le ingerenze di potere, anche quelle straniere durante le campagne elettorali, quelle che producono fake news, bufale, orientate a manipolare e avvelenare il dibattito pubblico per difendere la libertà di stampa ovunque questa fosse in pericolo. Potremmo ricordare tanti semi e tanti frutti del suo impegno infaticabile, però voglio cogliere uno spunto del dibattito di oggi e dare anche una risposta alla giusta domanda che prima faceva Fabio Fazio. Sì, la politica deve assumersi quella responsabilità e quel coraggio di dire che è vero che se oggi l'informazione pubblica, soprattutto in questo Paese, è versa in questo Stato, non tutti i mali sono nati oggi, non tutti i mali sono nati con questo Governo, ma è il tempo di mettere mano a una riforma che finalmente liberi il servizio pubblico e lo renda indipendente dalla politica dei partiti. A questo stiamo lavorando, ascoltando non soltanto noi stessi, non ne avremo tutte le competenze, ma proprio chi lavora in quel mondo e può aiutarci a scrivere una storia migliore che anche una storia di maggiore efficacia, qualità, libertà e pluralismo dell'informazione in questo Paese.